Tra dieci giorni le grandi aziende italiane potranno tornare a licenziare. Dal primo luglio le imprese non avranno più i vincoli entrati in vigore nel febbraio 2020. La misura presa un anno fa dal governo Conte per evitare che la pandemia provocasse una gravissima crisi sociale a marzo 2021 era stata prolungata fino al 30 giugno dal nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Se non sarà prorogato il blocco dei licenziamenti in Irpina si conteranno circa 8.000 esuberi. Un autentico dramma per una provincia alle prese con mille difficoltà già da prima del covid. Quello di fine mese è un via libera allo sblocco di licenziamenti parziale in base alla normativa. Oggi vigente dal primo luglio per industria ed edilizia torna la cassa integrazione ordinaria ma scontata. Non si pagano le addizionali fino a dicembre. Chi la utilizza non potrà licenziare finché usa l'ammortizzatore sociale. Chi invece non ha bisogno di chiedere la cassa integrazione scontata perché in fase di ripartenza può tornare a licenziare. Invece per i servizi e terziario il blocco dura fino al 31 ottobre accompagnato sempre dalla cassa emergenziale. Sulla mancata proroga del blocco dei licenziamenti si rischiano in tutto il paese conseguenze sociali molto pesanti. In un quadro in cui milioni di persone hanno già perso il lavoro nell'ultimo anno. I dati Istat diffusi nei giorni scorsi infatti evidenziano che ci sono più di 5 milioni di persone in povertà assoluta.